hello people bentornati in questo video oggi vediamo insieme la mystery box della rituals vi avevo mandato il link su instagram però mi avete anche scritto dopo poco che non era più disponibile era esaurito abbastanza velocemente mi dispiace un po però ritual e spesso fa queste cose che ogni tanto lanciano una mystery box questa ha costato 9,90 o 9,95 comunque vi lascio tutti i dati sempre scritto e qua troviamo 5 o 6 prodotti dentro sono curiosa comunque il box packaging super super bello fa allegria veramente un box super bello super stylish vediamo chiaramente dentro i prodotti c'è pure una protezione dentro anche questo super professionale e cominciamo wow con una full size e questo è la ritual of samurai un cooling shower gel questo in realtà è della linea maschile però chiaramente è una nota maschile lo possono usare anche donne soprattutto a me mi piace di stare perché lascia questa questo effetto freddo sulla pelle molto molto piacevole a un odore super fresco super sportivo chiaramente questo è un prodotto che usavo insieme al mio marito molto molto bello e solo questo nella full size costa intorno al 9 euro e qualcosa quindi top continuiamo abbiamo un prodotto della linea Kama e qua hanno messo un body scrub anche questo molto molto utile un body scrub la grandezza è un po più piccola però comunque top continuiamo hanno messo anche un body spray della richards of sakura a chi piace la ciliega questo è una profumazione top la mia preferita della richards molto molto buono fresco femminile molto molto buono e questo è il hair and body mist molto molto bello grandezza che la conosciamo sempre anche dei calendari dell'avento sono super curiosa anche dei calendari dell'avento quest'anno cosa si inventerà richards comunque i calendari dell'avento stanno già cominciando sì sono un po pazzi lo so però purtroppo anch'io vi farò vedere fra poco un calendario dell'avento vabbè comunque questa è una candelina sempre questa anche troviamo nei calendari dell'avento e questo è della savage garden savage garden è super fresco in effetto in effetti è questo l'odore del box che si sente anche super fresco florale molto molto piacevolo però c'è anche una nota maschile quindi da anche questa freschezza leggerezza molto molto buono questa candela abbiamo ancora due prodotti qua abbiamo sempre un prodotto un po più piccolo e qua abbiamo sempre della richards of sakura e questo è un hand bomb un hand bomb piccolo così a me non mi dispiace perché c'entra bene nella borsa e può servire l'ultimo prodotto qua abbiamo ritual of ying anche questa è una profumazione super super buona e qua abbiamo una instant care hand lotion relax anche questo è un prodotto per le mani ma avevano messo due prodotti per le mani uno un po più piccolo però questo è una crema come consistenza crema invece questo è una luce e penso che sia più intenso io al momento di questa marca di questa profumazione sto usando la crema da notte quindi tipo la maschera che è molto molto intenso ma a questi odori da dormire quindi con lavanda rilassante molto buono penso che sia una cosa simile anche che qua non è scritto mask perché solo il progetto originale scritto mask qua è scritto invece hand lotion però penso che sia magari un po più intenso anche se non fosse così comunque questo ha una profumazione molto adatto per la per la sera per dormire per rilassarsi quindi una crema per le mani per la borsa e uno per accanto al letto ragazzi questa era la mystery box per 9,90 chiaramente abbiamo già ripagato il prodotto full size quindi ci sta mi piace questo box mi piace ritual sinceramente sono un gran tifo chiaramente per provarlo una mystery box conviene sempre fatemi sapere come trova di voi ritual e ci vediamo presto ciao ragazzi